Paolo, non hai ancora aperto il bar? Come faccio a svegliarmi senza il tuo espresso? Dai, vieni su a berlo. Ma come? Ti chiedo un espresso e me lo fai con la moca. Fidati di me che sono un esperto. Questo è Splendid Moca, il caffè dal gusto forte. Ed è buono come l'espresso del mio bar. Che ne dici? Hai ragione, è forte che è un piacere. È il piacere espresso. Splendid Moca, il piacere espresso.